Gli investigatori sono determinati a trovare prove su tutti i responsabili. Due sono morti nell'attentato. Il nostro assistito è l'unico rimasto vivo, ergo diranno che è la mente di tutto. Ci sono alcune prove contro di lei che l'accusa ritiene debbano essere assolutamente tenute nascoste al pubblico e anche a lei. Ci sono poteri in gioco che né lei né io possiamo anche solo sperare di controllare. Devi fare attenzione. È troppo tardi anche per questo. Eric Bana, Rebecca Hall, Closed Circuit, domenica alle 21.05, Rai 4.